come state spero bene e niente in questo video vi voglio far vedere tutte le cose che ho contatto con i saldi. Iniziamo da Pandora, ho preso tre pacchettini, ho preso, allora cliccate, lo charm di Alice, questo Alice entra in una bottiglia, poi ho preso il Chuck, il Chuck, questo è Pandora e poi per finire ho preso un anello che mi piaceva un botto, c'è questo guadalello, due cuori che si uniscono con la colonna, è bellissimo e niente questi sono gli acquisto che ho fatto su Pandora, poi ho preso, da gialango ho preso l'hobeg mera, non ho aperto niente per aprirlo con voi nel video, ecco qua, l'hobeg nera, tutta nera e dentro è bianca, ne ho già una che è quella rossa che mi avevano regalato a un compleanno e poi questa nuova apucra è bianca ed è dimensione più grande rispetto a questa, vedete la differenza, vedete, una è più grande e una è più grande, questa non è più grande, ma questa non è più grande, ma questa non l'aveva proprio sporcata e quindi gazzanando ho preso queste due, sempre in offerta, poi da intimissimi ho preso questo reggiseno qua e queste, un completino, poi dagli amamai ho preso questo che mi piaceva un botto, super reggiseno, poi da sul sito di last ho preso una bomba da bagno, poi l'altra bomba da bagno Halloween, poi questa borsa piena di bomba da bagno, ma ve la farò vedere nel prossimo video e poi per non mancarci niente, poi ho preso questo, poi ho preso questo, che è un gel goccia e poi ho preso, guardate che lo prendo, questo che è il calendario dell'avvento di 12 caselle, che lo apriremo nel prossimo video e poi in omaggio ma non ecco questi due, Gloria al balsamo e crema viso, ho preso, pitch, poi negozi fisici, sono andata solo in questo perché la cosa ho fatto un giro a Milano e sono andata solo da, no, sono andata da Vittoria Sicca e Primark, Primark ho preso queste tre cose, vabbè, una bomba da bagno a 3 euro, a 2 euro, poi ho preso questi orecchini qua, del centesimo anniversario della Disney, tutti belli, tutti i tendenti belli e poi non potevo non prendere questi di stitch, e da Vittoria Sicca ho preso un reggiseno, azzurro, e poi ho preso il pigiama, comunque dico che deve durare 10 minuti, apro in questo video la boss, non so cosa c'è dentro, si chiama Christmas Candy Boss, allora vediamo cosa c'è dentro, allora aprirò anche il calendario, e apriamo, prima cosa c'è il Candy Tail, bomba da bagno, poi c'è l'orsetto, vediamo, andiamo a scavare un po', poi c'è dentro, una bomba da bagno doppia, col fiocco, uno azzurro e uno, uno rosa e bianco e uno bianco e azzurro, poi, poi, cos'è la testa, sempre una bomba da bagno, no, la saponetta da bagno, vabbè, con dentro il fiore, e poi, c'è questa, bomba da bagno, che mi sembra di averla trovata l'anno scorso in versione diversa, poi, ce n'è l'ultima, che dovrebbe essere, che è questo, è sempre una bomba da bagno che questa fa le bolle, ciudiamo tutto, adesso le metto via tutte, allora, mettendo a posto, io mi sono dimenticati di far vedere, queste due cose che ho preso sempre con i tagli, questa è, alla mela, a cannella, e questo al gusto che alla pesca, e in te ho preso anche, sul tipo di wrap, lo spovolino, per pulire la cannuccia, e niente, mi ero dimenticata, queste tre cose, da aggiungere poi, al video dei tagli, e niente, io spero che questo video, dei miei acquisti con i saldi, vi sia piaciuto, ci vediamo al prossimo video, ciao! 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 Ciao!